Il Bale Toscana Village si trova a Tore Mozza nel comune di Piombini. Appartamenti in riva al mare immersi nel verde della pineta, con parco giochi, campi da tennis, piscina ed un ottimo ristorante. Il Bale Toscana Village è ideale per le famiglie amanti del mare e del relax. Eccezionale promozione con sconto del 20% per due settimane a partire dal 21 maggio al 4 giugno. Guarda subito l'offerta sul sito www.bayatoscana.com